Il ritorno di quarta tra i dirigenti del città di Brindisi, nulla di vero, a smentire la possibilità del ritorno in Biancazzurro dell'ex presidente, poi defenestrato lo scorso anno dopo una lunga serie di polemiche e litigi, anche furiosi, e il diretto interessato che, dopo aver ascoltato e letto l'indiscrezione, si affretta a chiarire. Preciso che, seppur di recente ho ricevuto inviti di tal fatta da alcuni dirigenti del club Biancazzurro, detti inviti, pur lusingandomi, sono stati da me declinati. Come dire, prima mi cacciate, poi mi rivolete? Non se ne parla. Intendo comunicare, continua quarta, che rimane assolutamente esclusa ogni ipotesi di una mia collaborazione di qualsiasi natura con la società calcistica del Brindisi, avendo il sottoscritto definitivamente posto fine alla propria esperienza in seno a detta società, con il recesso a suo tempo rassegnato. Ma il cuore dell'ex presidente resta Biancazzurro. Certamente, come ho sempre fatto, non farò mai mancare, conclude l'ex presidente, il personale supporto di sportivo e tifoso alla squadra della mia città, la cui dirigenza dovrà ora andare avanti senza di lui.